Qui i miei colori riescono dalla mia vene, sono dolci, i miei colori, dolci, indosco in autunno, e in calcolo scienco, sono riuscito ad agire bene, quando vanno dentro agli occhi della gente. Susie Ben decise di perfezionare i suoi studi di balletto nella più famosa scuola europea di danza. Scelse la celebre Accademia di Friburgo. Partì un giorno, alle 9 di mattina, dall'aeroporto di New York e giunse in Germania alle 10.45, ora locale. Vuoi uccidermi? Vuoi uccidere Elena Marco?